benvenuti a tutti in questo nuovo episodio in cui creeremo un uno struzzo! ti ho guarda che è un canguro è uno struzzo ok questo qua è l'unico per cui dirò la lana in vita mia questo qua fa un canguro siamo sulle bull bottle team ah i pixel oh yeah e come lo sto facendo io oh mio dio i cangueri esploderanno allora fai io faccio il pavimento lo faccio quella savana la savana la savana lo sai dove abbi? metti la sabbia rossa la sabbia rossa? non so se sei mai stato in Australia o dove fanno nei cartoni animati nei film gli struzzi si gli struzzi questa no la sabbia vabbè si questo qua va bene però lo voglio poi si come metti quello il pavimento il canguro prova a mettere la sabbia cioè solo per curiosità però poi rimetti questo qua eh la sabbia è b... ehm c'è gialla fa schifo la sabbia gialla no questa la sabbia rossa ah è quella che cos'è red suns ecco va bene per questo altrimenti sono uguali eh no l'altro è meglio l'altro è arenari eh si eh appunto l'altro è meglio però ci sono tipo tre arenari uguali oh mio dio guarda che coda bella una coda a strati no adesso dimmi la differenza tra questo questo e questo eh si ma non cambia da sopra è arenari vabbè cambia i cosi i design oh oh la puoi rimettere che per sbaglio ho messo dai è la coda è fantastica si l'ho chiamata coda a strati sembra non sembra non sembra non sembra non sembra non sembra forse lo sto facendo devi prendere questa lana e aiutarmi ad alzarlo non voglio farlo non fermi mi porca è troppo tardi no aiutami ad alzarlo aiutami ad alzarlo ovviamente ovviamente però non si sono i lati perché sennò non finiremo mai si vabbè ho pure riempito oh mio dio dentro ci mettiamo tipo un buco in panza tipo il centro benessere non alzarlo così tanto dimmi quanto così quanto abbastanza per fare un corpo che cosa vuol dire abbastanza per fare un corpo non ne ho idea se no te l'avrei detto ma è simmetrico scusa oh mio dio quanto è simmetrico hai fatto da 3 e da 2 qua infatti qui hai proprio sbagliato tu oh mio dio non io qui 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 è così e quella 3 deve essere qui da cosa? oh bene così senti cosa sta succedendo? ma è così è così è così ma 2 2 aspetta qui sono 2 poi è 1 4 minuti cosa aspetta ok aspetta aspetta lock ora è andata che ciao ho detto tia ciao sono tia ciao sono tia ciao ciao sono tia tia oh mio dio ma è ancora da 2 uhurai come è possibile aspetta ah ma perchè qua non... ma che tolta perchè non capivo cosa non andava ok perfetto continuano ad alzare dimetti il pavimento a favore perchè ho sbagliato una cosa e quindi ma il pavimento c'è? si lo so ma ci sono ma esplode secondo te? che cosa? alla fine di chi? si ma non esplode ci provo? certo che non esplode dai metti ci provo? no metti il pavimento volevo provare metti il pavimento di nuovo per sbaglio ho messo ok no metto ma c'è il pavimento? si lo so ma... oh no hai messo nella sabbia rossa c'è tutta l'arenne che avevi nell'inventario che finì ha fatto male è esplosa tutta ok dai sta venendo molto male bene che cosa sta succedendo? ok va bene ops oh mamma oddio oddio che belle braccia che gli ho fatto devo essere sincero ne sono proprio fatta vado? ancora felicità perchè... secondo me non esplode non puoi esplare vado vado non puoi esplodere vado 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 A tappa, a tappa, a tappa! Sto tappando! Oh no, stai tappando troppo! Ho detto che devo fare la... Cos'è Quampus? È la magia, magia! Cos'è questo? È un pazzi pubbice! È un pazzi pubbice! Però adesso si senti! Cos'è? Ma quanti pubbici ha questo? Non è una persona, infatti! Questo omino! Non è un omino! Perché gli hai messo del fuoco sulla schiena? Guardi, manca ancora un botto! Cioè, questo qua è il corpo! Manca un botto, è solo il corpo! Oddio, la coda è proprio bella! Come sapete che il tema non è la coda? Il tema non è la coda! Come ce l'hanno la faccia i canguri? Tipo una cosa allungata qua? È allungato, non vedi? È troppo allungato! Forse lo dobbiamo diminuire qua! C'è un problema! Tu sei il problema! Oh no! Metti la leva d'acciarino! Che vuol dire la leva d'acciarino? Ok, la leva d'acciarino! Non me lo fa levare! Non me lo fa levare! Ho il pavimento di accendino! Ti ho pavimento di accendino! Ti ho la gente che ti guarda tipo Ho detto pavimento di accendino! Ho detto pavimento di accendino! E' male male male! Ma 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 ma! Oh fai gli occhi di prima! Fai gli occhi di prima! Oh mio dio il suo cervello! Oh mio dio! Un cervello esplosivo! Che ti ridi? Allora mettiamo il coso! Prendi un banner! Oh mio dio! Non mi muovere mentre faccio il banner! Ma come quelli del pinguino? Si! Quindi il coso dietro era i denti? I bianchi? Si! Si si! Ok perfetto! Manca pochissimo! Lo so! Sto ampliando la testa se no è sproporzionata rispetto al corpo! Non so come funziona questo gioco! Ma prima li fatti tu! Ma non mi ricordo! Era così! L'ha fatto! L'ha fatto! L'ho fatto! Dov'è? 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 Lo metto! Eccolo! Dove li ho messi da due? No nonni! L'ho messo! Ecco! Ecco! Faccio vedere che! Che bruttino! Che si vede il cervello! Non c'è qualcosa dentro! Questo è un coniglio! Oddio c'è un cartello! Ah non l'ho visto! Bello fa! Ma non è un canguro! Questo è! Hanno la sacca! Giusto! Perché non hai fatto la tua vacca! No questo è! Com'è il sigla? Questo è Winnie the Pooh! Oddio! 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 Dov'è il canguro? Non lo trovo. Dov'è il canguro? Visti canguro. Dov'è il canguro? Bello, questo qua è proprio... Oddio! No, wow, no, 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 la fantasia! Cioè ci vuole più fantasia per immortare, che... Oddio! Fa paura! Fa paura! Fa paura! Dove è andata? Cioè quella da bo... Un altro, un altro coniglio! Perché fanno tutti dentro gli alberi? Perché fanno tutti i conigli? Cos'è il canguro? Perché fanno tutti i conigli? Cos'è il canguro? È il pancia! È il buco che c'è in pancia! Questo è la cruce! Ah, che carino, sì! Non mi piace mai così il canguro. So cute! Oddio! Conigli no! Questo è... È inquietante! Questo è veramente indeterminato. No, non ho messo in vuoto! Questo è di me al nostro! Questo è un robot che sta per esplodere. Sì, sembra un robot tipo di Eggman. Cioè, a c... Guarda le facce che c'è sotto! Ma c'è un figlio morto! Questo povero! Sono troppo inquietanti! Ehm... No, vuoi fare la pixel art per te? Questo è una cosa astratta, si può trovare in tutti i... No, la cosa astratta... Sei l'arte più fuma. Sì, ma la cosa astratta sopra è perché quella sotto... Ok, sono quarti. Ah, questo è un bel stato. Sì, questo qua era carino. Tipo, ah, questo non è la sacca! C'è una cosa dentro! La prossima volta faccio quel Pokémon che c'è il... What? Man! Man, what? La prossima volta faccio il Pokémon quello che c'è il tizio nella tasca. Oh mio Dio, che fraccata! Dai, rientra! La prossima volta faccio il Pokémon che... Ok, hai capito. È il caso del Pokémon? No! Oh no! Come hai? Perché c'è un tizio nudo che vuoi in giro? Tu guardai e... Explosione. C'è un tizio sotto terra! L'intera... Guarda! Vieni qua! Ma che dici? Sta sopra questo! Io lo vedo sopra, eh! Ma non... Guardi... Guarda che lo vedi, ci dipende. Come... Ma chi? Totalin! Totalin, eh? Sta sopra! Ah, ok, se lo dici tu... Io l'avevo proprio sotto, ma non è che si vede un pezzo di testa. Io l'avevo proprio sotto sotto. Ma è una femmina. Ma non è una femmina. Oddio, è uscita. È una femmina. Oh, ma non sapete che scherzo sempre via? Palestra. Una palestra... Oh mio Dio! Facciamo una palestra Pokémon! Non mi piace. Fai... Fai la... No, 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 no. Ho detto una palestra Pokémon. Questo vuol dire rosso... E bianco. Right? Ok, tu fai il pavimento. Fai il pavimento di... Il pavimento. Ok, ci sto. Bianco. Come lo ha il pavimento? Fermo! 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 Come lo ha il pavimento? Fai il pavimento di erba! Di erba! Come c'è il pavimento di erba? Fai il pavimento di erba! Ma l'erba non è un blocco solido? Fallo! Fai il pavimento di erba! Cioè, fai il pavimento di erba! Non vuole imprendere la dirt! Oh, mamma mia, quanta differenza! Non è la stessa cosa che... L'erba è l'erba! Uno, due, tre! 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 Questa è dirt! Sì, infatti, no? Si chiama grass block! Sì, infatti, no? Un blocco grasso! E che cosa? Simpatico! Vedi, cos'è l'erba? Ok, cambia il pavimento interno! Perché rompi i blocchi? Cambia il pavimento interno! Mettila cosa che è più simpatico! Non so, che ci stai nel centro-potom per terra! Metti la... Il blocco! Sì! Ma va! No, no, no! Metti l'erba! Metti l'erba! Non si può mettere! Metti l'erba! Non si... Metti il grass block! Che hai di grass block? Ma fa schifo! Ma all'interno lo devi cambiare! Sì, ciao! Metti un secolo e millennio! Vai! Vado! Lo devi fare di... Arenaria... No, arenaria! Argilla... Blu, 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 blu! Quello stesso che sta là sotto! No, no, è lo stesso quello che sta là sotto! No, fa schifo blu! Ok, metti blu! Ma fai che blu, scusa, aspetta! Blu! Why? Because blu is blu! Infatti, non ho preso il rosso, però... Cioè... Poi, ovviamente, tipo... Non gioco io da poco, è da tanto, ma... Sopra è arancione! Perché parliamo in inglese? Sopra è arancione, vero? A parte, sotto non è... Bianco! È rosso! Però, ormai... Non dirige più a nessuno! Comento di secco! Vai, puoi farci, non ti preoccupare, non usa le hack! Ti ho cosa? Io? Cosa? Io? Quando mai? Ti ho cosa sono le hack! Persona simpatica! Cosa sono le hack! No, tipo ha trovato un tizio su Mindplex. Appena è entrato, c'era chi lavora a palla, si vedeva lui che faceva blu! Cioè, ho detto, mamma, la chi lavora attiva! Mi diceva a togliere, ho detto, la chi lavora attiva! L'ho vicenda da lui, poi l'ha tolta mentre lo vissavo! Ma guardami, faceva così! Ho capito, va bene! Adesso, ok, sbrigati a cambiare il pavimento! Non sei, sì! E poi, quello che... A parte che siamo a fare una cosa tipo centro Pokémon! Sì, ma non mi stai capire come fanno a capire che ho centro Pokémon! Infatti mi sto sbagliando! Sto facendo un centro Pokémon, non sto facendo la... Oddio! Oh mio Dio, sto sbagliando tutto! Verrà viola perché blu non esiste! E blu non esiste! Ah, vabbè! Infatti io uso sempre l'apis per le pixel art! No, me l'apis mi piace! Mi piace! Sì, vabbè, non fai molto la differenza quando vedi una cosa grande, una grande... Help me! Eh? Help me! No, è da troppo tempo che non prendo un Happy Meal! Non lo prendo, del fatto! Boh, non lo so, forse un mese! Perché io lo so... Un vostri anni! Vabbè, è un mese che non vado a McDonald's! Ma che ti credevi, scusa! Allora, io do una settimana! Che non mangia più mille! Senti, non puoi storchiare le parole con il... Capito? Ma... Beh, ma stavo scherzando! Sì, stavo... Ma stavo 30 secondi! Ma è vero, abbiamo 2 minuti 54! E' l'induzione che metti il mio cazzo! Ho rai, ho rai, ho rai... Io sto proprio, dovevo... Come dire... Ma aspetti, mi fai questo coso, ah, metti qualcosa dentro, metti un villager che sarebbe... E' il capo palestra! Ma dove fai il centro Pokémon? E' come una palestra! È un centro papo ma una palestra? È una palestra, lei c'è a destra! E' un centro papo? Come facciamo fare una palestra? Ma mi metto un incubio, mi metto un incubio dentro! Ma ti è tutto buio! Ah, dai! Dai! Ci penso io, ci penso io, ci penso io! Aspetta! So io come fare! No, ho detto che lo so io! Sto facendo un piccolo tronetto! Il tizio dice... Il tizio dice... Il tizio dice... Insomma, le penne sono molto illuminate, credo, no? Chi? Cosa? Cosa? Eh, questi sono i pesi... Neva, ste cose! Sono anche i dominati? Vedi se ci sta la testa della Pokéball? Ma che ti serve? Non andai con il centro Pokémon di Sivi! Ma ci stanno i Pokémon nel Pokémon? Oh no, si è sbagliato! Butcher! Perché non ho il brutto Butcher! Oh, ma c'hanno sempre la gravata davanti! Interior! Ok! Ma... Oh mio Dio! Cosa? Chi? Mi ha voluto via un villager! L'ho messo qui! Ho messo i nuovi! E guarda dove è arrivato! Ok, spalmentiti! Sbrigati! Ce ne stanno le teste di Paolo? Perché hai messo il piccolino? Oh, metti... Dai, no! Che bellino! Mettilo normale! Dai, oh, metti questi due blocchi qua! Dai, io l'avevo messo normale! Che devo mettere? Un altro villager! No, fermo, fermo, fermo! Non fare niente! Non fare niente! Non fare niente! Fermo, fermo! Dai, per favore! Mettete l'incudine! No, 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 dai! Sì! Per decorare! No, cerca delle... No! No, non fare... Servono! Che cosa ne sto? Che brutta cosa... No, che schifo! Non so, non so! Non sembra quello che... Dai, non fai niente di quello che dico! Sei proprio una persona cattiva! Hai detto, ciao, ma le Powerball? Non ci stanno... Vabbè, non ho fatto neanche in tempo qua! Beh, sicuramente questa è mai da... Oh mio Dio! Cioè, c'è un po... Sta facendo un pollo! Oh mio Dio! Smettila! Oh mio Dio! Un po' la canestra! Cos'è? Non capisco niente di questo! Eh, ma... Yeah! Ma scusa, eh! L'entrata? Ah, e cosa sarebbe qualcosa? Eh, doveva essere una cosa che poteva! Solo che non avevo del tempo di dirlo! Perché dovevo rimediare a tutti i tuoi dilemmi! Ho messo due cose! Incudini! Ma che schifo! Dovevi mettere... Ma non c'era niente dentro! Dovevi mettere due statue! C'ha presente che all'inizio di ogni palestra di Pokémon ci stanno due statue? Ma che statue? Non c'era tempo! 20-30 secondi! Ma non abbiamo giocato a un gioco di Pokémon! C'è stato un gioco di Pokémon! E allora c'è presente che quando entri una palestra di Pokémon... Ma qua facevamo! Non prendendo gli incurini e non mettendo a caso i blocchi? Esatto! Oh mio Dio! Che cos'è? È inquietante! Si è rotto! Che cosa? Con l'altro si è morto! Cosa? Non capisco che questo cosa sia! Cos'è questo? Non lo so! Ma c'è un chest! Wow! Cioè è bello che c'hai avuto tipo un botto di tempo... E fai quello! Ma ma su qualche bocca c'è? Oddio! Che tantissimo! Cioè proprio soltanto perché fa paura! Sì! 4.639 Nelle ultime 5 giorni! Perché c'è un cuore? Perché non ci dovrebbe essere! Perché c'erano dei trampolini che in realtà non servono trampolini? Perché non dovrebbe essere! Ma in una palestra non ci sono trampolini! Oh! 13, 16! Non so se mi ha detto quarte squadra c'era! No! 13! No! 14! 14! Questa è una 14 allora! 13! No 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 no! No! It's a muscolation! No! Sì! Non lo so! Se per questa è la l'unica palestra vera! Ma la nostra scusa è... Cioè! A sto punto! Tutte con per le due non statue! Sì certo! Non è super bellissimo! Che facciamo? Concludiamo l'episodio! Ok! Ciao! Guardate! Oh! Che pillole! I'm arriving into water! Ok! Sei arrivato? Oh no! Ma dove starai mai? No! Ti ho visto da un 50 km che ti stai muovendo! Con la testa in testa! Con la testa in testa! Cosa! Senti eh! Ti permesso ti bravo io! Ciao! Sì tipo ciao! Sì ciao! Io sto dietro! Cosa? Credi! Ha fraggato! Non vale! Sì certo! Mi ha fatto tornare indietro! Ciao! Ok benissimo! Sei andato! Al prossimo episodio! No! Ho 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 ho!